The Walking Dead 8 ci ha regalato un mid-season finale pazzesco, in cui i fan hanno dovuto rievocare le emozioni provate nella premiere della stagione precedente. Le promesse della sinossi dell'episodio 8x08 sono state mantenute ampiamente e forse non hanno sorpreso chi aveva già intuito la trama. Come sempre, la serie tv apocalittica andrà in pausa in occasione delle festività natalizie, lasciandoci in sospeso su quanto succederà nella seconda metà dell'ottava stagione. Quando andrà di nuovo in onda The Walking Dead 8, mancano ancora 8 puntate alla fine di questa stagione, che si concluderà con l'episodio 8x16 di The Walking Dead. I fan dovranno rimanere con il dubbio fino al prossimo 11 febbraio 2018, data prevista per il ritorno in tv dello show. Fin troppo tempo per chi adesso vuole scoprire tutto di ciò che accadrà fra i Saviors e le tre comunità di sopravvissuti, dopo quanto accaduto in precedenza. Se non siete ancora in pari con la trama fermatevi qui, il resto è spoiler. La morte di Carl Grimes lascia un vuoto negli appassionati di The Walking Dead 8 e non solo. Anche se le voci e i rumors su questo tragico evento si erano già diffusi sul web lo scorso anno, lo stesso Chandler Riggs aveva richiesto di non lasciar trapelare nulla. Gli avvistamenti infatti non avevano lasciato spazio a dubbi sul destino del giovane Grimes, che dopo aver mostrato carattere da vendere, è rimasto vittima del suo stesso piano. Negano non perdona, come sappiamo fin dal suo ingresso in The Walking Dead ed in passato aveva già minacciato Rick che avrebbe ucciso Carl senza riserve, se necessario. Eppure come abbiamo visto, le cose sono andate molto diversamente. Correlati questo sito utilizza dei cookie, anche di terze parti, per offrire un servizio migliore al navigatore. Proseguendo accetti il loro utilizzo. Ok leggi di più privacy cookies policy per cento di blogger hanno fatto clic su mi piace per questo.